Tre giornate tra la Puglia e la Basilicata con la stampa internazionale sulla zona economica speciale Ionica a un anno dall'avvio dello sportello unico digitale. Primo incontro a Matera sulla rotta verso lo sviluppo sostenibile del Sud, come recita il titolo dell'iniziativa, alla luce anche del decreto legge che unirà le otto zone speciali nella ZES unica del Mezzogiorno. Ad oggi io ritengo che con lo strumento che è stato approvato si sia tracciato un percorso, il DPCM non è stato ancora pubblicato, si lavorerà ritengo in continuità perché è stato noi dato comunque un termine dove consegnare una sorta di relazione conclusiva, dove sostanzialmente evidenziamo le principali criticità, evidenziamo il lavoro fatto e ritengo che insomma debba essere un bagaglio prezioso per mettere in condizione anche l'unità di missione di portare avanti quegli obiettivi che sono stati fissati comunque all'interno del decreto legge. Centrale nella ZES interregionale Ionica il porto di Taranto, l'auspicio è che tale centralità resti anche nella ZES unica. Io non credo che unificare la zona economica speciale con un sistema centralizzato che tra l'altro fa sorridere perché è assolutamente in controtendenza al disegno di autonomia differenziata, quindi credo che sia anche con un problema quasi di inconciliabilità con gli altri testi di sviluppo, di riforme che il governo sta portando avanti. Chiudendo non credo che sia un elemento di sviluppo sul quale il Sud Italia può dirsi d'accordo e contento, soprattutto in realtà come Taranto, credo anche come Matera che stanno facendo della zona economica speciale il punto centrale di sviluppo dell'economia dei territori.